e buongiorno a tutti o buonasera secondo ovviamente di quando guardate questo video amici e amiche del genuano atipico l'avevo detto che sarei tornato anche oggi con un nuovo video che è quasi un avevo definito un completamento del ragionamento precedente solo perché mi voglio riferire alberto girardino in realtà questo video è un'analisi di un altro aspetto di questo geno è riferito forse a un discorso più generale rispetto a quello precedente che ho visto sto vedendo nei commenti a quello uscito nelle scorse ore che alcuni hanno preso il discorso in maniera forse fin troppo generale ma ci sta perché magari anche io potevo non essere stato molto chiaro in questo senso oggi invece voglio essere seriamente generale nel senso che voglio andare a parlare di una delle frasi dei 777 di inizio avventura rosso blu per loro ottobre 2021 primo ottobre 2021 se non ricordo male intervista sky e quindi prima molto prima del della famosa only one year sulla quale sinceramente non mi sono mai forse espresso seriamente perché lo dico adesso la ritengo una una frase quasi scontata perché se avessero detto qualcosa di diverso forse ci saremmo arrabbiati molto di più ma questo è un altro discorso invece questa frase era una frase che ha forse suscitato ancora più voci voci giornalistiche e anche volontà dei tifosi in un certo in un certo senso e anche dello stesso presidente zangrillo e ora andiamo a vedere di cosa sto parlando sto parlando della frase che è stata detta si confermo il primo di ottobre 2021 è stata questa cito da gianlucadimarcio.com vi lascio poi il link in descrizione di questa di questa intervista ammiriamo quello che ha fatto l'atalanta hanno un grande progetto sono stabilmente in champions league e qui forse gli hanno un po gufata passato di questo termine un po ironico ci piacerebbe ripetere quello che stanno facendo benissimo da questo momento o meglio da poco tempo dopo è tornato anche perché è stato un desiderio di alberto zangrillo espresso forse non so se con degli amici o a mezzo stampa non ricordo il nome in auge il nome di giampiero gasperini e tutti probabilmente soprattutto in quel primo periodo hanno ricollegato il modello atalanta al suo nome beh ci sta ragionamento che messo in questi termini non posso contestare ma 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 è un ragionamento passate il termine parziale o per non dire limitato perché perché in realtà il modello atalanta si può fare anche senza giampiero ora prima di andare avanti con il ragionamento voglio premettere che giampiero lo sa bene che io al mister voglio tantissimo bene gasperini sia proprio a livello personale ci conosciamo da tanti anni e poi comunque lo considero un ottimo mister al di là di qualche forse critica che si può fare su alcune reazioni chiama questo fa parte dell'uomo più che delle che del mister e ognuno di noi può essere criticabile per per certi atteggiamenti che ha quindi non mi metto neanche a difenderlo ad attaccarlo per questo e questo non c'entra assolutamente nulla con quello che sto per dire quindi voglio dire che la mia nel dire che si può fare un modello atalanta anche senza gasperini non è una critica in questo senso a giampiero andiamo avanti e voglio quindi spiegare cosa intendo dire qual è la base del modo di fare di gasperini già dal genoa ma che all'atalanta ha portato ancora forse di più crescere giovani mischiarli con giocatori esperti creare sicuramente anche sul mercato delle possibilità di guadagno che poi vengono reinvestite e portare dal punto di vista sportivo le squadre sempre più in alto con noi la champions la sfiorò solamente con l'atalanta ci è arrivato bene ovviamente noi ora siamo in serie b quindi champions non se ne parla ancora questo è normale ma per quanto riguarda la crescita dei giovani il mix con giocatori esperti che secondo me per la nomea che hanno sono anche alcuni fuori categoria e la gestione di uno spogliatoio in maniera ottima con questi elementi noi l'allenatore ce l'abbiamo in casa e ripeto con tutto rispetto per giampiero gasperini non è giampiero gasperini ma si chiama alberto giardino giardino è stato preso per la primavera è stato preso per la primavera nel momento in cui ha fatto crescere la primavera in maniera incredibile senza perdere neanche una partita è andato a vincere anche in coppa tutto ha continuato benissimo è arrivato in prima squadra e non solo ha continuato una sfilza di risultati utili perdendo se non erano solo due gare in tutta in tutta la carriera rosso blu compresa la coppa italia ovviamente quella roma correggetemi se sbaglio al massimo sono tre comunque ma ha portato in prima squadra gente della primavera quindi ha fatto crescere i giovani i pani pensiamo a cornero pensiamo a boci solo per fare alcuni nomi e ha fatto crescere anche bene i giovani che erano già in squadra o che sono arrivati a gennaio matturro mogliacco per fare due nomi bene e questo l'ha fatto mischiandoli con i vari strottmann e così via tenendo comunque un spogliatoio solido e ottenendo i risultati che stiamo vedendo qui non questo non sono io a doverlo far a doverlo far notare credo quindi il nuovo che avanza può creare un nuovo modello gasperini o un nuovo modello atalanta per me sì per me girardino potrebbe essere proprio la dimostrazione come modello atalanta si può fare al di là del nome di gasperini poi se servirà il nome di gasperini e se gasperini arriverà il genoa come sempre viva gasp assolutamente ma fino a quel momento non diamo troppo retta alle voci non diamo troppo retta al nome solo perché il nome cerchiamo di vedere cosa poteva voler dire il riferimento al modello atalanta che probabilmente lo sta già facendo con girardino al geno quindi in questo momento viva il nostro violinista mi viene da dire e continuiamo così perché il modello dei 777 può continuare al di là dei nomi questa è la mia idea fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti ovviamente noi ci vediamo domani sera perché domani sera la puntata del ring dei tifosi sulla serie b sarà anche sul genoana tipico fare un'analisi in generale sulla serie b quindi faremo la doppia doppia piattaforma twitch del ring dei tifosi e youtube qui sul genoana tipico chiudo ricordandovi sempre di mandarmi i vostri contenuti dei vari stadi come da eh richiesta qui che sta scorrendo qui sotto vi ricordo anche l'indirizzo mail ve lo metto qui e chiudo anche dicendovi che stasera invece sarò dalle ventuno e anzi dalle ventidue sul ring dei tifosi perché sarò ospite del ring di napoli su youtube eh con ivano trotta ex napoli dell'anno anche della nostra promozione quindi parleremo di napoli parleremo anche di quel napoli e di quella eh di quella partita quindi chi vuole venire salutare ivano chi vuol parlare con i fratelli napoletani è ben accetto sempre con la massima educazione e rispetto questa è la cosa che vi chiedo sempre per quanto riguarda la live reaction invece salterà a dopo la regina ma arriveranno altre cose prima un saluto a tutti dal vostro genoana tipico ciao grazie a tutti